Continuiamo a vedere quali sono gli elementi che è possibile disegnare all'interno di Envimet. Nello specifico andremo a vedere i buildings. Questi si disegnano in una maniera molto simile a come abbiamo già visto per il terreno, per il dam. Per farlo comunque è necessario andare all'interno della scheda buildings dove troviamo una serie di caratteristiche impostabili che definiscono appunto questi edifici. Le principali sono sicuramente le prime due queste che sono top of building e bottom of building. Iniziamo con la prima che è la più intuibile, ci va a definire l'altezza dell'edificio. Posso disegnare sia con il cursore, riempiendo casellina per casellina, oppure con il cursore raddoppiato e inserire due caselline per volta. Quelle che andrò a disegnare ovviamente saranno visibili anche nella visualizzazione tridimensionale, dove mi sarà possibile anche disegnare una parte, una porzione omogenea. Ancora una volta, se vado a inserire una porzione diversa, questa va a sovrascrivere la vecchia. Come potete vedere qui addirittura si bucano anche questi edifici. Lo vedremo in futuro cosa significa e perché è meglio evitarli. Se dovesse venire fuori una condizione nella quale gli edifici non presentano più una delle pareti, sarà necessario andare a ricostruire questi edifici in modo tale da risarcire appunto queste mancanze ed evitare eventuali problemi nel calcolo. Andiamo quindi a vedere cos'è il bottom of building, quindi il secondo parametro. Se impostassi 5, questo definirebbe l'altezza da terra del mio edificio. In questa maniera qua. Quindi ho 5 metri sotto e la parte terminale in alto dell'edificio è a altezza 10. Non spuntare use absolute z data vorrà significare che lui seguirà quindi l'altezza del terreno per costruire i nostri building. Quindi andiamo ad inserire rapidamente un dam, per esempio altezza qui in 10 metri. Ecco qui. Andiamo anche a sovrascrivere eventuali edifici e andiamo quindi a riscrivere i building sopra questi edifici. Ora già vedo che i building precedentemente costruiti si alzano perché quando li abbiamo appunto costruiti questa spunta non era attiva e eventuali nuovi edifici andranno a costruirsi quindi salendo all'altezza del dam. In questo caso non toccano appunto il terreno perché 5 è il bottom of my building quindi saranno alzati di 5 metri rispetto al terreno. Viceversa se questa opzione fosse attiva 5 metri verrebbero considerati sempre dal piano 0 in questa maniera qua. Andando a sovrascrivere anche creando problemi il demo. Non è attiva l'opzione setting di dual segment proprio perché siamo nella modalità 2,5d. Vi ricordo che non ancora clicchiamo su questo famoso convert to detailed design. Per cancellare porzioni di edifici errate è conveniente tornare nella visualizzazione 2d e cancellarli impostando 0 e 0 sia al top che al bottom. In questa maniera qua andiamo a sovrascrivere con edifici nulli quelli errati. Ancora una volta possiamo utilizzare il cursore un po' più grande 2x2. Questo succede invece, questo errore perché ho cercato di disegnare fuori dall'area di Envimet quindi quando sto disegnando non posso uscire mai fuori dal confine altrimenti errore. Di default il materiale con cui andiamo a disegnare questi building è il concrete slab. Purtroppo non è proprio possibile modificare questo materiale fin quando non si entra nella modalità dettagliata appunto nella modalità tridimensionale. Posso anticipare che questo materiale è composto sempre di tre strati, a differenza invece dei single wall che poi vedremo in futuro saranno composti di uno strato solo. In definitiva quindi a cosa può servire utilizzare i building? Serve per rappresentare all'interno del modello di Envimet oggetti che racchiudono un volume finito, come ad esempio gli edifici. Possono una volta modificato l'impostazione da 2,5D a 3D essere caratterizzati anche di materiali diversi come vetro, acciaio piuttosto che materiali di natura organica. Un'ultima nota è da spendere rispetto all'altezza di questi edifici che esattamente come già succedeva per il DEM sono soggetti agli arrotondamenti dovuti al DZ.